Ciao da AFSIM! Ora tocca a Maurizio Lombardo, ex manager della Juventus, l'uomo dei contratti, così era stato definito quando era stato defenestrato nel 2020 poco dopo l'affare Suarez e io all'epoca dissi perché viene mandato via all'improvviso Lombardo, che cosa ha fatto, che cosa è successo? Mesi dopo, a giugno 2021, viene cacciato anche Paratici ed è una storia che riguarda Lombardo, Paratici, anche Cherubini e in precedenza Marotta, riguarda in generale il calciomercato della Juventus. Per mesi, per anni non abbiamo saputo, non abbiamo capito quante cose non ci sono state dette e quante altre ancora non sappiamo e magari verranno fuori più avanti e quindi ancora una volta dobbiamo essere soddisfatti che ci viene data questa informazione per quanto provenga per il tramite della procura oppure dobbiamo legittimamente battere i pugni sul tavolo perché è un'ingiustizia che ci venga detto tutto questo, è un'ingiustizia che vengano rivelate queste notizie, queste informazioni perché non si dovrebbero sapere, perché dovrebbe essere tutto occultato, tutto segreto e noi dovremmo essere tenuti all'oscuro. Ognuno è libero di posizionarsi come meglio credo, uno è libero di pensarla come vuole. Io personalmente penso che sia un bene, anche se in maniera così tardiva e postuma, sapere come la dirigenza della Juventus realmente operasse in quel periodo. Quanto meno quelli che erano i rapporti e gli attriti, poi che cosa realmente hanno fatto, non è Lombardo a potercelo dire in maniera definitiva ma sarà eventualmente un processo penale. Processo penale del quale però non c'è bisogno per esprimere dei giudizi critici nei confronti della conduzione del mercato e in generale della gestione della società Juventus in quegli anni, 2019, 2020, 2021, anche l'anno scorso, 2022, perché era abbastanza evidente che ci potessero essere non tanto delle irregolarità contabili, penali, quindi rilevanti sul piano penale o rilevanti sul piano sportivo e di quello anche dobbiamo parlare, ma una gestione quantomeno discutibile, come dico sempre, quantomeno, ma quantomeno discutibile. E invece arriviamo ad un'inchiesta penale, all'inchiesta prisma, arriviamo alle deposizioni di chi viene sentito come persona informata sui fatti, arriviamo alla documentazione, arriviamo ad uno scandalo. Ad uno scandalo che va avanti da mesi, sono mesi che quasi quotidianamente o quantomeno una volta al mese leggiamo il nome Juventus sui giornali per una questione che è compromettente, che è imbarazzante, per qualche novità relativa all'inchiesta, per qualche fatto che viene attribuito. Ora è chiaro che siamo ancora in una fase indagini, diciamo così, non c'è ancora l'udienza preliminare, a proposito, 27 marzo comincia e a quanto ha rivelato Gigi Moncalvo in un video su Visione TV su YouTube, il 17 marzo Cristiano Ronaldo sarà sentito dai PM di Torino a Torino, quindi Cristiano Ronaldo sarà sentito dai PM il 17 marzo, secondo quanto riferisce Gigi Moncalvo, non ho trovato altre conferme, altri riscontri, non ne sapevo nulla, ma pare che sia così. Vedremo appunto, ci sarà quindi anche questa notizia da registrare il giorno dopo, tra l'altro è un venerdì 17, il giorno dopo il 16 marzo che la Juventus si giocherà il ritorno degli ottavi di Europa League contro il Friburgo. E quindi appunto, vedete, noi parliamo di calcio, parliamo di campo, meglio, cerchiamo di parlare di calcio, ma nell'ambiente juventino ormai non è più consentito da anni parlare di calcio e poi però dobbiamo parlare anche di aule, di tribunale, dobbiamo parlare di pubblici ministeri, di guardia di finanza. Chi dobbiamo ringraziare per essere stati messi in questa condizione? Di chi è la colpa se oggi parlare di Juventus è parlare di processi penali, di inchieste penali, di inchieste sportive e quindi di tutta una serie di storie giudiziarie, di cronaca? Di chi è la colpa, di chi è la responsabilità? E vediamo appunto che cosa ha scritto, che cosa ha rivelato Repubblica, ecco intanto che cosa ha rivelato Repubblica e poi ha ripreso, poi ha ripreso Corriere della Sera, Corriere di Torino, Repubblica ieri sera, Corriere della Sera stamattina e stamattina anche Gazzetta, relativamente alla deposizione di Maurizio Lombardo, che è stato sentito questo 17 febbraio, mi pare di aver capito, comunque è stato sentito da poco su quello che lui aveva fatto all'epoca, quindi conversione informata sui fatti, possibile testimone e si parla quindi di un Lombardo che custodiva personalmente le side letters, quindi la documentazione non ufficiale, non depositata in lega, la documentazione occultata, la documentazione che non doveva emergere relativamente agli accordi per l'acquisto di calciatori con altre società. Non ci sono solo le side letters che quindi sono a margine e uno chiede ma perché sono a margine, cioè se non c'è nulla da nascondere, non c'è nessuna irregolarità, non dovresti avere della documentazione a parte, non dimentichiamo che la Juventus è stata, è sotto indagine anche per avere occultato documentazione depositandola presso studi legali, cioè fuori dalla sede sociale, non dimentichiamo queste cose. Ecco queste side letters non soltanto dicevo per gli stipendi, per gli accordi e controaccordi per gli stipendi della manovra stipendi ma anche per acquisto e cessione di calciatori. E oltre ad altre cose, cosa dice Lombardo? Qual era sostanzialmente lo schema da quando se ne è andato Marotta che era molto più oculato e faceva operazioni molto più lineari a differenza di paratici? Lo schema era, esempio Mandragora, ecco la carta Mandragora, io ti vendo Mandragora a te Udinese, a te Udinese ed è citato anche Gabasio che avrebbe, ed è anche indagato, che avrebbe come dirigente della Juventus consegnato al dirigente dell'Udinese la carta segreta, ecco, relativa a Mandragora. Io ti cedo Mandragora, tu me lo paghi e dici ma come io ti devo pagare tutti questi soldi per Mandragora? Io non ce li ho, non te li voglio dare, non ti voglio riconoscere questo valore. E non stiamo parlando di plusvalenze fittizi e cioè Mandragora è stato ceduto ad un valore eccessivo rispetto alla sua valutazione effettiva in ambito sportivo, alla sua reale effettiva valutazione sportiva. No, stiamo dicendo, Mandragora viene ceduto a titolo definitivo all'Udinese e nell'accordo pubblico c'è scritto, questo secondo quello che dice Lombardo e secondo quello che ritengono i pubblici ministeri, poi si vedrà nel processo se ci sarà, nell'accordo pubblico depositato in Lega c'è scritto che la Juventus ha la facoltà, la facoltà di riacquisto di Mandragora, cioè non è detto che te lo vengo a ricomprare, cara Udinese, tu intanto te lo compri e mi dai tutti questi soldi. Poi io forse ci penso, invece nelle side letters, nelle carte segrete custodite da Lombardo perché lo chiamavano paratici anche di notte per chiedere che cosa c'era scritto in queste carte, cioè lui era colui che le consultava e le riferiva ai dirigenti quando servivano perché dovevano stare nascoste e quindi le doveva conservare e custodire lui, c'era scritto che c'era obbligo di riacquisto di Mandragora da parte della Juventus, ma questo obbligo non figurava negli accordi ufficiali. Qual è la differenza? È presto detto. Mandragora, quando fu ceduto nel 2018, la prima volta, fu praticamente l'ultima operazione, se non ricordo male, una delle ultime operazioni di recompra. Che cos'è la recompra? Te lo vendo e poi me lo ricompro. Poi per evitare questo abuso della recompra fu inserita una nuova norma, per cui se tu vendi un giocatore ma hai l'obbligo di riacquisto, la plusvalenza non la puoi iscrivere subito, ma la puoi iscrivere solo dopo che lo hai effettivamente riacquistato, che non lo hai, anzi, solo se praticamente c'è un'accessione definitiva. Invece, occultando questo obbligo di riacquisto da parte della Juventus e facendolo figurare come facoltà, la plusvalenza si poteva iscrivere subito. Ed è questo che spiega Lombardo ai pubblici ministeri. Quindi, se è vero quello che dice Lombardo, che avrà il dente avvelenato, che sarà un dirigente della Roma e guarda caso viene sentito qualche giorno prima di Roma-Juventus e leggiamo le sue deposizioni qualche giorno prima di Roma-Juventus, va, volendo maliziare. Ma se è vero quello che dice Lombardo, la Juventus non ha affatto plusvalenze fittizie solo per tutto quello che sappiamo che è stato anche già oggetto di giudizio sportivo e pende adesso ricorso in appello al Collegio Coni. Non è più una questione di gonfiare i valori, non è più una questione di registrare contabilmente male per lo IAS 38 e i principi contabili, le società quotate in borsa, determinate operazioni. Ma è anche proprio violare le regole di base. Cioè sono plusvalenze fittizie nel senso che la Juventus, se è vero questo, ha iscritto a bilancio delle plusvalenze che non esistevano perché erano frutto di accordi falsi, di accordi non veritieri, se è vero quello che viene detto. Questo lo dico per spiegare la gravità della situazione. E la gravità della situazione, poi Lombardo dice anche tante altre cose, dice anche che Agnelli era perfettamente coinvolto in tutta questa vicenda, in questa modalità di gestire il calciomercato, quindi c'era anche la volontà diretta di Paratici di indebolire le altre squadre. Dice che Paratici aveva mania di onnipotenza e non è l'unico Lombardo che lo dice. E lo ha detto anche chi non sapeva di essere ascoltato come Cherubini o di essere eletto. Ma aveva mania di onnipotenza anche perché voleva comprare i giocatori anche presso altre società, vedasi anche il caso De Miral, queste società banca della Juve, Sassuolo Udinese, sempre secondo questa ricostruzione, questa ipotesi, per sottrarre alle altre. Cioè proprio specificamente per togliere giocatori utili alle altre squadre di Serie A e non solo di Serie A ma soprattutto di Serie A. Quindi un modo per alterare la regolarità della competizione e non una singola volta, non una singola stagione, anno dopo anno. Qui stiamo parlando del 2019, del 2020, del 2021, del 2022. Cioè sistematicamente, il 2022 forse no, ma sistematicamente, sistematicamente prendo un giocatore, lo piazzo da te oppure lo compriamo in sinergia ma in realtà è già mio perché così possiamo eludere o proprio violare le regole. Ora come si fa? Io sto cercando di spiegare con calma ma mi ribolle il sangue nelle vene, cari amici. Mi ribolle letteralmente il sangue nelle vene. Ieri sono andato a dormire anche più tardi del mio solito perché è uscita ieri sera questa storia di Lombardo e quindi ho cercato di approfondire, ho guardato, dicevo, quello che vi diceva il video di Gigi Moncalvo in cui spiega anche meglio la questione della Marilungo, della Zoppo e adesso ne parliamo. Perché non ci potevo pensare. Non ci posso pensare, eh? Questo lo dico per rispondere a chi ritiene che io goda nel parlare di queste cose. Io non ci posso pensare a che cosa hanno fatto in nome della Juventus. Non riesco a pensare, Agnelli, questi dirigenti, che cosa potrebbero, diciamo potrebbero, avere fatto in nome della Juventus. Ecco perché dicevo, di chi è la colpa se leggiamo di tutte quante queste cose? Chi è che ha commesso queste azioni? Queste azioni, poi vediamo se c'è una rilevanza penale o di qualche altro tipo. Chi è che le ha fatte? Non le ho fatte io. Non le ha fatte un giornalista brutto e cattivo, un giornale anti-Juve. Non le hanno fatte i giornalisti anti-Juventini militanti che twittano a tutte le ore. Le hanno fatte queste azioni? Agnelli, Nedved, Paratici, tutti questi dirigenti. Sono stati loro a fare queste potenziali, potenziali, possibili, ipotetiche, nefandezze in nome della Juventus. Quindi il fango sulla Juve non lo gettano gli anti-Juventini. O se lo gettano gli anti-Juventini, gli anti-Juventini sono loro, Agnelli. È lui l'anti-Juventino. Non ci posso pensare, da tifoso, a come hanno ridotto e stanno riducendo la mia amata Juventus, la nostra amata Juventus. E qui vi raccomando ancora una volta di distinguere le cose. La Juventus è una cosa, chi la amministra è un'altra. Ed è di passaggio. E dovrebbe fare buon uso della cosa pubblica. Pubblica nel senso che ha un interesse, che ovviamente genera interessi collettivi per tutti quanti i tifosi. E poi ci sono anche gli azionisti, a dire la verità. Quindi non è neanche tanto un fatto etico, non è neanche tanto un fatto morale di ben amministrare la cosa di tutti. Ma è anche un fatto legale, cioè lo devi proprio fare. E quindi veniamo alla posizione anche di Agnelli. e ancora una volta alla questione dell'approvazione dei bilanci. E poi purtroppo dobbiamo parlare proprio dell'iscrizione al campionato. Perché ribadiamo che cosa dice la Marilungo che si è dimessa categoricamente il 25 novembre. Quindi due o tre giorni prima il CDA che ha portato poi alle dimissioni di tutti i consiglieri e del Presidente stesso. Aveva detto ci sono state pressioni per approvare i bilanci, ma noi chiedevamo, noi come sindaci, come revisori, e c'è anche la Zoppo che dice la stessa cosa, conferma quello che dice Marilungo, noi chiedevamo, noi chiedevamo le carte, sapevamo che c'era un'indagine, sapevamo che c'erano delle carte che erano extra rispetto a quelle che ci avevano dato, sapevamo di queste side letters, ma non abbiamo potuto valutarle per fare il nostro lavoro. E nel momento in cui Deloitte, che è la società di revisione scelta dalla Juve, che come giustamente dice Gigi Boncalvo, viene pagata profumatamente per fare le valutazioni di revisione sui bilanci, fa dei rilievi, fa dei rilievi sul bilancio, cioè dobbiamo immaginare Deloitte come un docente molto largo di voti, che quindi proprio se gli vai a dire due paroline ti mette sei, quindi per farti dei rilievi il docente e Deloitte, ma veramente ci devono essere delle cose gravi, perché hanno una soglia dei giudizi piuttosto alta. Se Deloitte ti fa dei rilievi, giustamente io sindaco, io revisore della società, dico un attimo, un attimo signori, qui che cosa dobbiamo approvare? Che cosa, dove ci state andando a sbattere? Dove ci state mandando a sbattere? Perché Deloitte fa dei rilievi? Possiamo vederci chiaro, ma non venivano mostrate adeguatamente le carte. Poi ci sono anche problemi relativamente proprio alla verbalizzazione dei consigli di amministrazione, la Marilungo che vuole far mettere a verbale determinate obiezioni, viene interrotto il verbale, una serie di questioni poi nelle quali non entro perché non le ho comprese benissimo, non c'è stata forse piena chiarezza su questo, parliamo di deposizioni per il momento ai pubblici ministeri, ma capite la gravità della situazione con Agnelli che stava lì a dire approvate i bilanci se no non possiamo iscriverci, approvate i bilanci se no non ci possiamo iscrivere. Ecco, sono andato a vedere il documento relativo alla stagione 22-23, perché mi chiedo, se stiamo parlando degli ultimi mesi del 2022 e dell'approvazione del bilancio dal 30 giugno del 2022 quindi relativo alla stagione 21-22 e Agnelli diceva non ci possiamo iscrivere, io mi sono chiesto quando non ti potevi iscrivere? Alla stagione 21-22 che però è già terminata e l'ha già disputata o alla stagione 22-23 che è in corso? O alla stagione 23-24 che verrà dopo? Onestamente non so darvi una risposta ma vi dico che dal documento molto tecnico che ogni anno viene aggiornato con i requisiti per ottenere la licenza la licenza FIGC c'è scritto in quel documento in cui ci sono tantissimi adempimenti da fare c'è scritto sostanzialmente che se non vengono depositate tutte le carte correttamente entro una certa data non hai la possibilità di iscriverti al campionato devi pagare gli stipendi a tutto il personale comprese le tasse sugli stipendi entro determinate date altrimenti ti becchi due punti di penalizzazione per ciascuna violazione che vengono tra l'altro applicati nella stagione in corso 22-23 cioè nella stagione alla quale si riferiscono queste regole per ottenere la licenza e non è questo il caso non dovrebbe essere questo il caso ma c'è anche scritto che per esempio se ci sono dei debiti e qui veniamo anche al caso di Bala se ci sono dei debiti che non sono stati saldati entro una certa data e ci sono altre violazioni di carte che non vengono depositate contratti nello specifico con i calciatori con le società la situazione debitoria con le altre società in particolare la licenza non ti viene data allora se Agnelli dice approvate il bilancio così com'è quello relativo alla stagione 21-22 se no non ci possiamo iscrivere a me viene il dubbio che se modificano il bilancio cosa che inizialmente la dirigenza non voleva fare era restia a fare e ricordiamoci che per mesi abbiamo sentito ho letto comunicati della Juventus in cui la Juventus diceva abbiamo agito sempre secondo le regole abbiamo fatto tutto correttamente ma se non è vero che è stato fatto tutto correttamente i bilanci dovevano essere scritti in maniera diversa allora vuol dire che la Juve non poteva iscriversi al campionato in corso io capisco questo ora se alla luce di tutte queste possibili violazioni contratti non pienamente depositati accordi sotto banco accordi praticamente in nero per generare delle plusvalenze che non si potevano generare debiti non dichiarati come Ronaldo perché i 19,6 milioni da dare a Ronaldo non risultano a bilancio a differenza dei 3,7 per Di Bala che sono stati perlomeno inseriti nel fondo rischi allora vuol dire che alla luce di tutte queste possibili irregolarità la Juve si è iscritta a un campionato al quale non si poteva iscrivere e quindi torniamo al discorso dell'articolo 31,2 del codice di giustizia sportiva che dice che se alla luce non delle plusvalenze ma di violazioni documentali e contabili relative al bilancio si ottengono i requisiti indebitamente per l'iscrizione al campionato laddove secondo la documentazione regolare i requisiti non ci sarebbero stati lo sapete quali sono le penalizzazioni oltre ai punti in classifica la retrocessione la radiazione e la revocatitoli ora l'anno scorso non abbiamo vinto nulla ma gli anni precedenti sì e comunque al di là della revocatitoli radiazione cioè si riparte dalla serie C dalla serie D retrocessione al di là dei punti di penalizzazione non so se mi spiego non sto dicendo che la Juve rischia questo sto dicendo che queste persone il punto è questo queste persone hanno agito al di là delle irregolarità con totale non curanza dei rischi hanno agito in maniera spudorata hanno agito in maniera pericolosissima esponendo la società che amministravano e che rappresentavano una società gloriosa che coinvolge le emozioni e sentimenti di milioni di tifosi nel mondo e nella storia come se fosse stata carta straccia hanno agito in maniera indifendibile cioè come si fa come si fa a giustificare l'operato di questa dirigenza per quello che comunque risulta che abbiano fatto al di là che si sia trattato di irregolarità o meno poi possiamo mettere in dubbio la deposizione di Lombardo ma se mettiamo in dubbio la deposizione di Lombardo Lombardo ha commesso un reato perché se ha detto cose false o non vere ai pubblici ministeri ha commesso un reato quindi come si fa a dire Lombardo ha detto cose false dobbiamo per forza credere a quello che ha detto poi sarà valutato nel dibattimento tutta una serie di aspetti ma dire ha detto il falso o Marilungo ha detto il falso cioè accusarli come al solito la macchina del fango la solita macchina del fango uno parla contro la Juve ed è un anti-juventino ed è uno col dente avvenenato sempre questa poi alla fine l'argomentazione non c'è altro da dire da mettersi le mani nei capelli per come hanno distrutto la Juventus con questo operato indifendibile e appunto il caso di Bala di Bala che cosa si è detto di Bala non viene rinnovato perché vuole troppi soldi di Bala non viene rinnovato perché dobbiamo fare il 4-3-3 non viene rinnovato perché ha gli infortuni e non dimentichiamo non dimentichiamo che arriva bene lo aveva detto che le valutazioni relative al mancato rinnovo di Di Bala non riguardavano gli infortuni poi si è capito che riguardavano anche aspetti tecnici e quindi abbiamo dato la responsabilità anche ad Allegri ma adesso viene fuori che Di Bala ha una richiesta di rimborso pendente che potrebbe portare ad una causa a partire da aprile prossimo nei confronti della Juventus per 3,7 milioni non pagati cioè Di Bala nella firma del contratto di rinnovo voleva anche quei soldi ma gli aspettavano quei soldi attenzione non stiamo parlando di un Di Bala e non per difendere Di Bala perché i fatti sono questi non stiamo parlando di un Di Bala che voleva un rinnovo a 10 milioni stiamo parlando di un Di Bala che voleva un rinnovo a 8 milioni come gli era stato proposto poi forse avrebbe accettato anche un po' di meno cioè più o meno pari a quello che già prendeva 7,3 però giustamente 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 voleva i soldi che non gli sono stati pagati per la manovra stipendi 2021 per la seconda manovra stipendi Di Bala vanta un credito di 3,7 milioni che la Juventus ha messo nel fondo rischi e che gli avrebbe dovuto versare spalmati qualora avesse rinnovato in mancanza di rinnovo invece li doveva pagare subito questo era l'accordo e Di Bala rischia un mese di squalifica perché l'accordo la carta Ronaldo non è firmata da Ronaldo ma la carta Di Bala è firmata da Di Bala e non è stata depositata questo facevano facevano le carte e non le depositavano con i giocatori e con le società come si fa ci rendiamo conto del rischio di pesante gravissima alterazione dei bilanci di questa squadra i bilanci di questa società e come si fa a pensare che non ci sia stata una slealtà sportiva dei comportamenti finalizzati ad alterare il bilancio per avvantaggiarsi con le altre squadre sia a livello contabile quindi proprio come a livello economico in generale sia a livello sportivo acquisendo giocatori o mantenendo giocatori che altrimenti non si sarebbero potuti acquistare o mantenere di questo stiamo parlando e Dybala forse potrebbe anche fare un'azione risarcitoria nei confronti della Juve per il mancato rinnovo ma lì si discute se sia vero o meno però lui giustamente giustamente vuole quei soldi indietro e non vuole andare a causa dice spero che me li paghino entro aprile 2023 che è la scadenza altrimenti io devo andare a causa e non voglio fare una causa alla Juventus ma sarà costretto a farla voi rinuncereste a 3,7 milioni anche se ne prendeste 5 o 6 all'anno non scherziamo cioè stiamo parlando voi rinuncereste alla metà alla metà del vostro stipendio annuo perché la vostra azienda era in crisi vi promette che vi restituirà i soldi più avanti e poi non ve li dà e vi licenzia pure che fate in una situazione del genere che fate visto che già so che ci sono quelli pronti a dire che Dybala è irrispettoso nei confronti della Juve perché chiede i soldi che la Juve gli doveva dare da contratto e che la Juve gli ha nascosto dopo averglieli promessi dopo averglieli fatti vedere questa è la situazione purtroppo purtroppo che gioia posso avere secondo voi ad andare a dormire tardi e a svegliarmi presto leggendo queste cose sapendo queste cose che sono delle pugnalate nel cuore ogni volta che gioia pensate che possiamo avere che gioia pensate che possiamo avere nel parlare di queste cose ma questa è la situazione di che cosa vi dovrei parlare non fai mai contenuti positivi di che cosa vi dovrei parlare dei fiorellini nei campi delle rondini che stanno arrivando ed è quasi primavera di che cosa dobbiamo parlare tra l'altro delle cose positive che non erano veramente positive ma che erano posticce sostanzialmente che erano quasi inventate abbiamo parlato per anni per anni ci siamo pavoneggiati perché eravamo una società forte che poteva comprare un sacco di giocatori che poteva rinforzarsi ogni anno che poteva fare decine di milioni di mercato che poteva spendere decine di milioni per gli stipendi e che vinceva gli scudetti per anni abbiamo parlato di cose positive ma erano cose positive false che non esistevano erano cose positive che sembravano positive ma in realtà nascondevano un marcio molto profondo forse forse ora la situazione è questa Marilungo Zoppo Lombardo Di Bala Ronaldo che verrà sentito il 17 e andiamo avanti e andiamo avanti e ovviamente dobbiamo chiederci oltre al coinvolgimento di Agnelli quale fosse il coinvolgimento di Elkan perché Elkan che va a pagare tutti questi soldi di aumento di capitale doveva chiedersi si sarà domandato come venivano spesi questi soldi e perché ed Elkan compare anche nella deposizione di Marilungo perfettamente al corrente della richiesta di dimissioni di alcuni consiglieri e delle motivazioni delle richieste di dimissioni ma non mi pare che la situazione poi sia andata per il verso giusto e cioè le dimissioni sono state effettivamente depositate per delle ragioni potenzialmente molto gravi ma mi fermo continuate pure a dileggiare me e i giornalisti che vi raccontano i fatti continuate pure ad insultare e a bullizzare a bullizzare chi vi riporta le notizie solo perché quelle notizie non vi piacciono questo fa di voi delle persone poco intelligenti chi si comporta in questo modo ma è un problema vostro è un problema vostro perché voi potete bullizzare chi volete ma non cambiate la storia se la Juve viene condannata o comunque tutto il rischio di condanne che stiamo subendo e che stiamo soffrendo non dipende dal fatto che qualche giornalista parla o che qualche youtuber fa delle ricostruzioni su come stanno le cose su come stanno i fatti dipende da come i vostri amati dirigenti si sono comportati ma mi fermo perché sennò potrei andare avanti con i toni sbagliati per troppo tempo quindi grazie per l'attenzione buon dibattito nei commenti mettete like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti abbonatevi a partire da 99 centesimi al mese per avere tanti vantaggi da questo canale soprattutto commenti in evidenza programmazione quotidiana video in anteprima live in esclusiva e seguitemi anche sul mio secondo canale Apsimaut dove ci sono video brevi sul calcio e sulla Juventus ci vediamo molto presto e sempre forza Juve apsimauti 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 apsimauti